Scusate l'aspetto ma Federica mi ha appena svegliato in fretta e furia, in pratica il mio video su sto Marvel si è andato in tendenze e quello che è successo è che la Marvel l'ha visto e ha rinviato praticamente tutti i film che dovevano uscire, tipo Deadpool è stato rinviato, è stato rinviato, Thunderbolt è stato imitato, Captain America 4, è colpa mia, è un casino, è un casino, è colpa mia. Porca troppo, porca troppo, no ragazzi scusate non volevo.